Primo, primo, lavoro, occupazione. Guardate, gli italiani in questo momento pensano, anche quelli che non sono colpiti alla crisi, c'è un'ombra di preoccupazione sul destino dei nostri figli, della possibilità di trovare lavoro e così via. Attenzione, devono sentire che siamo un partito che si occupa di questo. Secondo, no ad ogni legge ad persona comunque imbastita, inventata, ritoccata, eccetera. Terzo, riforme, riforme vere. Noi siamo un partito riformista o noi troviamo una chiave per dare maggior credibilità, efficienza al sistema elettorale, al sistema istituzionale, a cominciare la riforma elettorale, che è una vergogna, che è una vergogna. Noi facciamo molta fatica a fermare questa onda. Quindi un partito riformista vuole riforme. E un partito come il nostro, quarto e ultimo punto, è per una riscossa civica.